Ma in arresto cardiaco dopo aver mangiato del cocomero a causa dell'ostruzione delle vie aeree è stata salvata grazie all'intervento dei presenti dell'infermiere del 118 che ha guidato le manovre. È successo ieri sera attorno alle 21 al circolo di Castelfranco in provincia di Arezzo. La donna, un 82enne, stava mangiando del cocomero quando le è andato di traverso un boccone. Hanno subito chiamato la nostra centrale dove il collega che ha risposto poi alla chiamata ha dato quelle che sono le istruzioni per arrivo in modo tale da poter si liberare in maniera repentina dei respiratori e diciamo riportare la tranquillità alla situazione. Quali sono queste manovre? Semplicemente la possibilità, se il paziente è ancora cosciente, di afferrarlo dietro le spalle e afferrando il torace contro entrambe le braccia, creare una pressione positiva all'interno dei polmoni tirandosi il paziente verso se stessi e quindi cercando di far uscire quello che è rimasto in gola dalla bocca semplicemente. Pure se invece il paziente non è più cosciente, quindi a terra, si fa quello che è un semplicissimo massaggio cardiaco per cercare comunque sia di distruirle in maniera repentina sostanzialmente. Nel frattempo, in tempi rapidissimi, è arrivata un'ambulanza da faella. I soccorritori hanno continuato il massaggio cardiaco fino a quando il cuore della donna è ripreso a battere. L'anziana è stata portata in codice giallo al pronto soccorso della gruccia. Non è in pericolo di vita.